Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Tee ed oggi siamo su Five Nights at Chuck E. Cheese Facciamo un nuovo game Ehm non Oh no Why in the gate? Ah Oh hi Ok Ok Ah huh Chucky Cheese Ok 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 Yeah well That's what they were tampered with they'd been rocked towards staff but not children I don't know I don't know But anyway I've been looking at the engineering room at the old location and the only electronic I managed to recover is the CDR to see the truck The thing is The thing is Um You shouldn't have the ability to move But you can It's very weird Anyway You may have heard of the whole area in front of you Ok I'm simply still in the process of opening the restaurant You want to save power You need to advise you with the gate You just wander down the road Something gets into your room Anyway though Sorry for the long call I shall hopefully see you tomorrow Bye Oh also The gate uses power so make sure you're not using it that much Anyway Bye Ok Ok Allora abbiamo il nostro Chuck Credo che si chiami solamente Chuck E qui abbiamo lo stemma di PewDiePie La corrente da sopra abbiamo 460 No Chiudi Chiudi Ah ma sta poco il tipo E adesso Adesso dov'è E qua c'è un cuoco Dov'è il matto? Potrebbe essere qua Ok ciao Comunque credo di aver capito come si gioca Sembra Sembra che Ma qua c'è un cuoco Dov'è qua? Boh vabbè Comunque Sembra che ci siano 4 personaggi Compreso quello nell'armadio Che non so chi è Che Si è spostato Quando c'è quel rumore Tipo di un tipo che Che respira nel Il tubo quello Per andare Per andare Sotta Motherfucker Ok 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 6am Chuck E Cheese Mi dicono Mi dicono che ce la farò Come ridere Come ripeto Compreso Come a chi si trova Passi Ciao? I'm not human, so this includes deer mechs. This shouldn't be a problem though, if you have an arrogant cover. Just slide it down whenever- Actually, I can see here. Uh, yeah, closet closet. Oh, right! Yeah. About the closet. Inside of it we keep the original 1977 Chucky, but he was, um, glitchy. And he killed- Nevermind. Just check on him from time to time, and make sure he doesn't get out. Otherwise you're in big, I mean, um, just check on him. Anyway, I'll see you tomorrow. Bye. Bye! Okay, ciao. Well, practically he said... something I haven't heard, and I didn't want to hear him. ... Qua c'è il cuoco? No, per sapere. No, perché c'è. Aspetta. Hello? Hello? Non mi va giù il power quando... Hello? Ma vabbè, un minuto. Dov'è quell'altro inutile essere? Dov'è? Dov'è? Non c'è. The fuck? Motherfucker! Devo trovare l'altro tipo O tipa O come lo vuoi chiamare Dov'è? Non c'è Motherfucker Ah credo che ci sia un bug Perché quando tiro su la corrente Ah no No è giusto Si no Dov'è il matto? E' qua Ok E' 5am Si diverte il matto A volare tra le telecamere Ah no Buono Notte 2 è completata ragazzi Ah il mio polso Ah ecco qua Vediamolo Nessun minigame previsto in questo gioco credo Notte 3 su 5 Dov'è quell'altro roba Dov'è quell'altro roba Hi Um hello Oh hi Very good Very good He's still alive Um I mean Anyway 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 We ship Mr. Munch He's also programmed to walk But he can't fit in events So I'll worry about him getting in there Also Not much has changed Did the 1977 Chucky ever move? Just wondering Let me see here Uh no Nothing else to add I guess I'll see you tomorrow Bye What? Che cavolo sei? Ma dei è un bug Non è giusto Allora facciamo così Aspetta Eccolo qua Bug E bug Mamma mia Oh hi Oh hi Oh hi Oh hi Um I mean Ci do la famiglia Anyway I'm calling to save the Mr. Munch He's also programmed to walk But he can't fit in events So I'll worry about him getting in there Also Not much has changed The 1977 Chucky ever move Assolutamente no The strong drink The strong drink Dov'è quello inutile? Uh no Nothing else to add I guess I'll see you tomorrow Bye Di nuovo Sto qua con maledetta Ehi C'è appunto questo bug Che ho appena trovato Che è se tu Chiudi la ventola Che di solito dovrebbe Dovrebbe prendere energia E poi Tiri sulla telecamera Si ferma il power Senza rubarti Troppa energia Quindi ragazzi Un bug piuttosto utile Diciamo E nel caso in cui abbiate il gioco Lo volete completare Per conto vostro Vi conviene usare sto bug Dov'è? Buongiorno 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 Che cosa dovrei fare Con quella roba Il marco non ha detto niente Su come fare con quel tizio Qui non c'è nessuno Adesso morirò Perché c'è il marco Nell'armadio Cosa sei? Quando si sente sto rumore Vuol dire che il marco si C'è qualcuno Definitivamente Nelle ventole Muori Atrocemente Allora vediamo un attimo C'è chi si sta Facendo le pippe Nella back room Non c'è nessuno Assolutamente nessuno Non ho capito Che cos'è quella roba viola Che è comparsa prima In momenti random Che non è qui 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 Più di poi Boh è essenzialmente Notte 3 completata Diciamo Mi pare che Aspetta Se tengo premuto Che figata Un altro bug Se tengo premuto Non mi fa vedere la luce Però Non mi fa vedere la luce Però la corrente Va giù lo stesso Due bug trovati ragazzi Piuttosto utili Diciamo Quindi I bug Mi faranno completare Anche questo gioco E come è successo A Five Nights Illuminati 4 Alla fine Dimmi cos'è il tipo Dell'armadio Se no ti uccido la famiglia E qua PowerCipro Chapel Hi? Hi! Wait! Now we shipped Jasper, but I forgot to completely fix him. So he may appear in a bit of a wreck. But not too much. Yeah... Um... It seems that we've been shipped... Something. I can't really give you much information on this, but I can say it's an inventory. The only possible explanation for this is that our shipping company has screwed up once again, and has sent us the wrong package. Anyway... Keep a look out for something, because I don't know if I'll make it through. Just keep an eye out. You know, because... Well... Bye. Oh! Also, I wouldn't use the cameras too much. It's better to keep an eye out in your office. What? I don't understand what I said. I won't use the cameras too much for some reason. Ho visto qualcosa che non mi... Cos'è? Cosa sei? Cosa sei? Bah, diciamo che utilizzare le telecamere non è la cosa primaria da fare in questo gioco. MOTHERFUCKING MOTHERFUCKER PISOF... Pfff... Pfff... What? Devo capire quanti personaggi ci sono esattamente. C'è... Ehm... Quattro... Più uno... Cinque... Il... Ma questo dovrebbe essere tipo Golden Freddy o Foxy o qualcosa? Non so perché... C'è... Fuck... Non devo usare le telecamere. Il... 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 Il cuoco dovrebbe essere Golden Freddy tipo. Chucky dovrebbe essere... BOOM! C'è... Eh... Oh... Boh... Chica è sempre un... Un pollo. No! Cosa devo fare con sta roba inutile? Perché esiste? Perché vive? Perché non muore? Più che altro? Eh... È... È la seconda fase. Qui... Cosa sei? Un giorno che ti faccio esplodere i bulbi oculari. Con sta luce. Ehm... 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 Mh... 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 Si può notare la mia proagine in sto gioco senza aver usato... avevo visto Chucky non sono non sono passo in mentale si tratta di un Chucky 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 Cheese ragazzi questo è il modo in cui si gioca Five Nights at Chucky Cheese Buggando il più possibile gioco, intendevo, non so se perché devo prendere un infarto alla fine prima delle 6 di mattina non so, cioè perché? notte 5 hello nooo what the fuck eh non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno veramente what the fuck are you nooo hello Poi sto sottofondo Molto tranquillo Comparerà quella roba inutile Non si sa per quale motivo Non è vero? Qualcosa si è mosso Qualcosa nelle ventole Ma io l'ho già chiusa La realizzata di Freddy ovviamente Copiata in Five Nights Ma ci sta Alla fine ci sta Tutti me le ho ehi Cosa dovrei fare con sto inutile essere? Perché non si uccide la famiglia? C'era il matto viola Non si è sentito il rumore del jumpscare Ma c'era Non ho capito quel cane roba Ghepardo o jaguaro Cosa devo fare con sta roba? Non c'è un bug per sto matto Ragazzi mi dispiace ma Il bug per sto tipo non c'è Questo è come se gioca a Five Nights at Chuck.i. Cheese Comunque spero che il video vi stia piacendo Anche se non parlo molto Perché devo stare concentrato a non morire in modo di idiota E il matto uscirà dall'armadio prima o poi Ciao Come va? Come va? Come va? Morito Aspettiamoci un jumpscare Eccolo qua Quanto scommetti che viene il cicatricene Non è possibile Non posso far tipo così Ma va Capito la tecnica ragazzi Questo è un bug Appena scoperto dal vostro caro tizio channel Quindi Quindi Quando devo chiudere la porta Devo far così E fare così Un motherfucker Anche se spreca 500 milioni di robe di energia Vien Provami a venire adesso Voglio vedere se vieni Perché? Ma mi stai prendendo in giro Cioè Ditemi per quale motivo il matto è nell'armadio E più che altro perché non è già morto atrocemente Bruciato vivo Oppure C'è chi No Ti brucerò l'occhio Ora userò così tanto la torcia Che l'occhio ti prenderà fuoco ed esploderai Perché? 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 Quale motivo? Ok Sei di mattina Ce l'abbiamo fatta Great Fred Andrews 100 Dollars And 50 cents Good job Kiddo Voglio sperare che non ci sia la notte 6 E se no giuro che uccido qualcuno Possiamo andare via da sto Si finì What? Perché esiste la notte 6 Di sto gioco Madre fuoco No 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 Ma oh Perché non dormi? Cioè È mezzanotte Potevi dormire no? Un poco E allora sei stronzo dentro Nell'anima proprio Se vado meno scream Non è una notte speciale la notte 6 Non dovrebbe esistere di solito la notte 6 Ci provo un ching Due o tre volte Che diventeranno 27 Abbiamo What the fuck is that? E dopo basta Perché non so più voglia di giocare a sta roba Nooo My god fucking damn it Perché non ti stai tirando testate con C'era un po' di gente nel corridoio Mi pare a me Porca puttana bastarda Maledetta Eh ma allora sei Ma sei un bug vivente? Esatto Questo è quello che succede Se io faccio restart Proviamo eh Oh 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 Questa cane Questa è nato? Oh Oh What the fuck is that? Oh Non respirare così forte Guarda che ci sei Buongiorno Arrivederci Arrivederci Posso andare via di qua Thanks for playing Non ho ben capito che cosa è successo alla fine Ma Vabbè Teorie di Five Nights at Chuck E. Cheese No sto scherzando Thanks for playing Posso tornare Bene ragazzi questo era Five Nights at Chuck E. Cheese Spero che vi sia piaciuto E anche Se ero un pro Devi ammettere che ero un pro Non te sei Comunque noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao